Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Vanessa Incontrada incanta i suoi follower con uno scatto che la ritrae in tutta la sua bellezza in una cornice estiva, con lo sguardo verso il futuro È un'attrice di successo e una conduttrice amatissima. Vanessa Incontrada è amata dagli italiani per la sua schiettezza e genuinità Tra un impegno di lavoro e l'altro, le riprese della seconda stagione di Fosca Innocenti sono iniziate nel maggio scorso, Vanessa si concede qualche giorno di relax in quest'estate infuocata Un suo scatto condiviso su Instagram ha fatto incetta di like Il messaggio di Vanessa Incontrada.Travolta dal fenomeno body shaming, la bellissima Vanessa Incontrada non ha mai perso la fiducia in se stessa e nelle sue doti estetiche L'attrice è stata spesso criticata per i suoi chili di troppo sia dai leoni da tastiera che da alcuni colleghi L'attrice è diventata la portatrice di un messaggio sincero di body positive che vuole sottolineare quanto facciano male gli stereotipi di bellezza e della libertà che una donna deve avere, nel vivere pacificamente con il proprio corpo Bellissima al mare con lo sguardo sul futuro.Superate le polemiche sul suo corpo, l'attrice a conduttrice italo-spagnola si è rigettata a capofitto nel suo lavoro, che non si è mai fermato in realtà, anche se oggi pare lo affronti con maggiore consapevolezza e con una dose in più, di riflessione Soprattutto dopo la fine della sua relazione con Rossano Laurini, con cui ha avuto il figlio Isal Vanessa Incontrada oggi ha una nuova libertà. Attivissima su Instagram con un seguito di oltre 2 milioni di follower, l'attrice incanta tutti i suoi fan, con foto e video che raccontano le sue giornate e la sua bellezza Come l'ultimo scatto, in cui appare di primo piano con il viso rilassato e fiero verso l'orizzonte Uno sguardo estivo. Besito il post ha ricevuto in breve tempo una miriade di like e di commenti, carichi di cuoricini e complimenti Uno sguardo meraviglioso di infinita bellezza, e che sguardo! Bella! Buongiorno e buona giornata! Besitos, buone vacanze vane! Sono solo alcuni dei messaggi ricevuti dalla Showgirl Del resto Vanessa guarda verso il futuro senza mai abbandonare il suo senso di libertà, è una parola che uso moltissimo, sempre, con tutti Io mi voglio sentire libera di dire quello che voglio, rispettando gli altri ha confidato recentemente a Vanity Fair Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video